vai vai simon andami veloci katakuri contro kakuzo 11 non fatti katakuri contro kakuzo si ne mancano 3 io qua sempre one piece non lo conosco quindi mi astengo di nuovo va bene ci sta anche io potrei dire più o meno la stessa cosa non mi va di andare a vedere su versus battle ci sta bravo per quanto riguarda katakuri perché ho il telefono in carica e mi scoccia aprire un'altra pagina perché poi mi sfiderebbe nella live katakuri riesce a copiare le tecniche di kakuzo no vedo perché dovrebbe no perché lui dice che col mochi replica un po' tipo i gassotti però le capacità di kakuzo sono molto particolari non dico che può assorbire i cuori però riesce a tipo l'acqua a trasformarsi in quella cosa pelosa lì vabbè ma allora a creare tipo tentacoli e roba del genere secondo me sì però tecniche ninja no e neanche il suo diciamo fit di pseudo immortalità ecco ho capito allora se non può assorbire totalmente copiare più che altro le tecniche dico kakuzo allora ok guarda io sono d'accordo secondo me è uno scontro che dura tanto questo uno scontro che dura molto katakuri ha alcuni vantaggi tipo la percezione però kakuzo è vabbè i cuori ovviamente è una cosa c'ha più abilità tendenzialmente c'ha più assi nella manica per quanto magari non sia più forte secondo me in un modo o nell'altro riesce a trovare la vittoria però secondo me questo è uno scontro che dura tanto ma non è quello che se devi considerare la fisica reale io faccio una domanda vai l'acqua delle tecniche acquatiche influisce sul mochi sui fruttati secondo me l'acqua che genera kakuzo è acqua dolce non è acqua dolce però ci sono gli squali nell'acqua di gisame è vero qual è il punto l'acqua o comunque gli elementi che si creano con le tecniche ninja non sono l'elemento in sé sono chakra che ha preso le caratteristiche di quell'elemento cioè non puoi avere la tecnica dell'acqua questa è è chakra con le caratteristiche dell'acqua ok però però hanno tutte le caratteristiche dell'acqua perché ci sopravvivono degli animali acquatici dentro però rimane chakra creati artificialmente rimane chakra ok però quello che voglio dire va a influenzare sui fruttati gli elementi in teoria potrebbero posso pensare di sì cioè dipende dall'elemento no 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 i fruttati in one piece se entrano in contatto con l'acqua di mare e per diciamo anche acqua dolce allora il problema qual è se tu gli spari un proiettile d'acqua non è come se fosse il mare se il proiettile gli si infrange addosso poi va a terra certo però se tu fai una sfera d'acqua e ce lo metti dentro già è diverso allora in quel caso sì in quel caso è un problema può essere un problema secondo me non ha cioè non è l'acqua che gli leva i poteri dai vabbè allora se non gli leva i poteri io voto Katakuri perché secondo me nonostante Kakuzu sia un avversario molto complicato il fatto che lui può prevedere le mosse lo dovrebbe mettere al sicuro da imprevisti che ci saranno sicuramente sono poco esperto ma non erano deboli all'acqua in generale cioè non è solo l'acqua del mare è proprio l'acqua no l'acqua marina perché ci deve avere la calmatolite in teoria no non è quello cioè semplicemente l'acqua è solo l'acqua i personaggi di di One Piece la berranno l'acqua sì 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 è l'acqua di mare perché perché ha dei minerali che credo sia la calmatolite io ti dico se l'acqua normale affloscia il mochi ah l'acqua normale affloscia il mochi ma no ma è fatto con l'acqua cioè lo potenzia con l'acqua che il mochi che sarà un culo allora va bene allora Katakuri non è più forte sì non si fanno mai il bagno non si fanno mai la doccia no per il fattore dell'acqua comunque quando in una scena Okiji e Ale Terme insieme agli altri pirati comunque dice che non è abbastanza l'acqua per interborirle la quantità d'acqua in cui sono emersi sono 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 dentro infatti dipende dalla percentuale di corpo esatto per questo se Ale Terme è acqua normale non è acqua di mare automaticamente la qualsiasi tipo d'acqua influisce sul potere di un fruttato ok ci può avere senso come teoria la ciotte volta Katakuri io rimango su Kakuzzo allora io Kakuzzo te Kakuzzo sfide ma io dico Katakuri perché anche io dico Katakuri secondo me se effettivamente questa cosa della fisica la bypassi a livello di resistenza è più resistente Katakuri è resistente come Katakuri quello c'ha 5 cuori è più resistente al punto di vista di colpi però quello c'ha 5 cuori la resistenza di Katakuri la prendo da lo scontro contro Rufi nel senso i personaggi di One Piece in generale sono sempre resistenti però sono tutti quanti imprevisti che darebbero molto fastidio ad un altro personaggio ma Katakuri basa tutto il suo combattimento sul prevedere gli imprevisti anche il fatto che gli spacca un cuore e vede che non è morto a un altro personaggio potrebbe fregarlo a Katakuri secondo me no secondo voi chi è più strategico Katakuzzi o Katakuri secondo me ah che mi imbroglio con i nomi me ne avete messo a seccare secondo me diciamo come come intelligenza come intelligenza è superiore a Katakuzu beh sì ho vissuto pure un po' di più però non intelligenza di combattimento no no ma anche intelligenza di combattimento però non prevede il futuro cioè regà quell'altro prevede il futuro e non è scemo eh però l'altro può capire che prevede il futuro è basarsi in conseguenza ma sì va bene vediamo non è che vediamo il futuro sì ma Katakuri riesce a sorreggere un combattimento contro cinque maschere cioè praticamente sono quattro più Kakuzu non mi ricordo sì 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 no certo quello è diciamo il dubbio e ci può stare votare uno o l'altro secondo me cioè io il mio centesimo lo butto su Katakuri va bene quindi vince Katakuri 3 a 2 3 a 2 bello sinceramente combattuto come 3 a 2 io potrei quasi essere d'accordo con Katakuri qui perché per quello che mostra come raggio degli attacchi come potenza secondo me Kakuzu non supera il city block level sinceramente Katakuri per quanto poco ne sape di One Piece lo vedo già sopra ok vabbè 4 a 2 c'eravamo quasi arriate a non dire city level vai next comunque questo qua era quindi questo a che risultato è finito 4 a 2 perché anche Gunzen ha votato Katakuri vai prossimo un po' un po' un po' un po' Grazie a tutti